Buongiorno a tutti, sono le 7.26, stamattina mi sono svegliata prestissimo perché stanotte non ho dormito bene, ero sveglia alle 1.30, alle 4, alle 5 e poi alle 6 mio marito si è alzato per andare a lavorare e allora mi sono alzata anch'io e abbiamo fatto colazione insieme. Non nego che stamattina una lacrimuccia mi è scesa, ero un po' in ansia, devo dire che sono fortunata perché la chemiorossa non mi dà particolari problemi, l'ho fatta lunedì e ieri ho dovuto fare la puntura per i globuli bianchi e probabilmente sono in ansia perché mi aspetto che presto arriveranno i dolori anche se calcolo che mi arriveranno domani, non oggi. Per quanto riguarda il servizio fotografico che ho fatto ieri è andato molto bene, ho fatto solo pochi scatti, infatti è andato velocissimo. Ho ricevuto tre fotografie ma che purtroppo non posso ancora condividere con voi perché devo tenerle fino a quando sarà finita l'esposizione e il vernissage. Dopodiché ve le farò vedere, sono venute bene, bianco e nero, mi hanno messo una sciarpa rosa intorno al collo e quindi sono spalle nude, non si vede niente, però si vede proprio il bianco e nero. Avevo su un rossetto, ho sbagliato, ho messo un rossetto rosso, però viene fuori nero, però la sciarpa è proprio rosa rosa, molto bella. E cos'altro? Ieri ho avuto una bellissima giornata con mio marito, abbiamo fatto un po' di shopping, abbiamo pulito anche la macchina, ieri ero in piena forma, piena di energia. Di carattere, se non dormo bene di notte, mi capita che dopo sono un po' triste, un po' stanca, quindi devo veramente combattere questa cosa. Metterò un po' di oli essenziali nel mio diffusore per aiutarmi a passare bene la giornata. Oggi devo fare anche la puntura del vischio, me la faccio dopo. E cos'altro? Voi cosa fate oggi? Che controlli avete? Fatemi sapere. Io vi ringrazio sempre tantissimo per i vostri numerosi messaggi, mi fanno sempre un sacco piacere, come vedete io cerco di mettere mi piace a quasi tutti, anche se non è sempre semplice, perché ricevo più di 300-400 messaggi al giorno. Faccio del mio meglio. Allora, dai, vi ringrazio ancora tantissimo, e ci sentiamo presto, vi faccio sapere tutto, come sempre. Un bacio, ciao!